Attimi di terrore a Fiuggi, intorno alle 8 e 30 del mattino, quando un giovane di Alatri ha fatto irruzione nel centro di formazione ed ha preso in ostaggio circa 20 studenti, nonché il direttore della scuola, che si trovavano lì a fare lezione come tutti i giorni. Il ragazzo, 28enne, residente nella contrada Colle Lavena di Alatri, poco dopo l'inizio delle lezioni, ha fatto irruzione nella scuola e dopo averlo afferrato alla gola, ha trascinato con forza il direttore dell'istituto dentro un'aula in cui si trovavano 20 studenti. In cura, presso il centro di igiene mentale e in evidente stato di alterazione psicofisica, fortunatamente senza armi, ha afferrato una studentessa, strattonandola violentemente ed ordinando agli altri studenti di non muoversi, di fatto tenendo tutti in ostaggio. Uno degli studenti è riuscito a scappare dall'aula e una volta fuori ha dato l'allarme. Sul posto si sono subito portati i carabinieri della locale stazione, unitamente ad agenti di polizia del commissariato di pubblica sicurezza di Fiuggi, che hanno fatto irruzione nella classe. Dopo un iniziale tentativo di reazione, che lo ha portato a ferire anche alcuni poliziotti, si è arreso ed è stato trasportato presso l'ospedale di Frosinone. Le indagini sono condotte congiuntamente da carabinieri e polizia.